Il Presidente Lombardo è coerente da sempre, è quello di aver preso per i fondelli siciliani, ci ha detto che non è in condizione di fare niente e che lui rispetterà quelli che sono i dettami del Parlamento regionale. Noi paghiamo l'energia elettrica come imprese, come attività produttive a 12 centesimi a kilowattora, il concorrente nostro francese li paga a 0,028. Io sfido questi politici, io sfido i migliori economisti che ci sono in circolazione di darmi delle risposte in merito come le nostre aziende possono essere competitive, noi siamo al fallimento totale ed è vergognoso ancora che stiamo dietro a questa classe politica che non capisce queste cose ed è chiaro che di fronte a questa situazione, a questo disastro la risposta è rivoluzione culturale. Intanto noi resteremo qua il più a lungo possibile nella speranza che il governatore si diventa. In tutta la Sicilia praticamente si stanno facendo delle riunioni nei comuni, in tutti gli angoli della Sicilia.